Ciao amici e benvenuti a Entry Channel. Siete stanchi di spese eccessive? Oggi parliamo di risparmio. Ci sono tantissime cose su cui poter risparmiare. Oggi partiamo dal sapone liquido per la lavatrice. Il procedimento è molto semplice, vi lasciamo agli ingredienti. Per realizzare il nostro sapone ci serviranno 5 litri di acqua, 100 grammi di bicarbonato, 250 grammi di sapone di Marsiglia, circa 50 gocce di olio essenziale a scelta. Come prima cosa riduciamo a scaglia la saponetta. Mettiamo l'acqua sul fuoco e facciamo sciogliere le scaglie. Una volta sciolte spegniamo il fuoco. Aggiungiamo il bicarbonato e l'olio essenziale, mescolando per qualche minuto. Mettiamo il coperchio e lasciamo raffreddare per una notte. Il giorno successivo sarà diventato un composto denso. Basterà frullarlo con un frullatore ad immersione per ottenere il nostro sapone. Con meno di un euro abbiamo realizzato ben 5 litri di prodotto. Come avete visto è un grande risparmio. Provate anche voi e fateci sapere con un commento. Al prossimo video. Ciao! Ciao!